Sì, sì, io ci sto. Signore, avete perduto una cosa. Le vede queste mani? Hanno spento vite umane. Parliamo del compenso. Ehm, 20.000 euro? Mi lasci riflettere un momento. D'accordo. Ho trovato una perla rara. Ha fatto un mucchio di cose. La Corea del Sud. Kennedy, è stato lui. Ma non bisogna parlarne in giro. Non ti muovere! Voi siete delle professioniste? Io sono un professionista. Insieme faremo un buon lavoro. Crepa! Carugna! Se so leggere... Conso! Porco cane, Michelle! Sì, uomo almeno una volta nella vita! E ammazzi quello giusto, perché noi non abbiamo i soldi di Bill Gates. Se siete scontente, andate ad ammazzare il padrone da sole. Non sono mica robocopio. Alla fine! Alla fine! Alla fine! Yes! Ma! Alla fine! Alla fine! Grazie.